Taranto, soprattutto nelle periferie, sembra una città del terzo mondo. Sì, bisogna dirle certe cose, non bisogna, come si suol dire, mettere la polvere sotto il tappeto o mettere la testa sotto la sabbia. Bisogna dirle e bisogna, scusatemi l'espressione, sputtanare certe situazioni. Ci troviamo in via Martin Lutero, via Mediterraneo, appunto zona Lama, per rappresentarvi la situazione della condizione incredibile, vergognosa, in cui versano le case appartenenti di competenza all'Arca Ionica, ex IACP, per capirci, che stanno letteralmente crollando a pezzi. Non è una esagerazione. Le immagini parlano chiaro. Vedete, qui praticamente il palazzo fino al quarto, quinto piano, pezzi di muratura che si sono staccati e sono caduti. Qui le pietre, i pezzi che si sono staccati, sono la prova più evidente. Questo lo dico all'Arca Ionica. Arca Ionica, se una cosa del genere cade in testa da lì, in quale mondo si va a finire? Nel paradiso terrestre? Per chi è stato buono, per chi è stato cattivo e poi se ne va all'inferno. Ma al di là della battuta, sono arrivati i vigili urbani, hanno transennato, i vigili del fuoco, mi correggo, hanno transennato e poi, come si suol dire, chi si è visto si è visto. Passato il santo, passata la festa. Ora, chiaramente le abitazioni sono di proprietà dell'Arca Ionica, dell'ex IACP, ma un'amministrazione comunale, visto che stiamo parlando di un'area comunale, un sindaco doveva mettersi in contatto con l'OIACP. Doveva far presente che in un'area di transito pubblico ci sono dei pezzi di muratura che stanno cadendo. Insomma, un sindaco, un'amministrazione comunale si deve necessariamente coordinare con l'OIACP, parliamo di istituti, di un istituto di case popolari, giusto per intenderci. Ecco, Melucci non ha mai fatto questo, non c'è mai stato un minimo contatto e devo dire anche l'Arca Ionica, ecco, può cambiare il nome, poteva chiamarsi prima IACP, oggi Arca Ionica, non è che cambiando i nomi, le denominazioni cambia il contenuto. Il contenuto è che le sue responsabilità dell'Arca Ionica sono enormi, gravissime, perché qui non intervenendo si mette a rischio la pubblica incolumità. Se cade e cade, stanno cadendo uno dietro l'altro tutti i calcinacci, tutti i pezzi di muratura e qui non stiamo parlando di pezzi di intonaco, fesserie. Qui, passatemi l'espressione perché a me piace essere molto diretto e piace parlare la nostra lingua e il dialetto, cade nel chiangun, come si suol dire. Guardateli, immaginate se questo, così, va a finire in testa a una persona, cosa succede? Ma ce ne sono pure più grossi, ecco, questo addirittura. Guardate un po', signori dell'Arca Ionica, guardate, se questo cade addosso a una persona, l'ammazza, va bene, gli sfraccella il cranio. Vergogna, solamente vergogna, vergogna all'Arca Ionica, responsabilità anche dell'amministrazione comunale, ha ricevuto queste segnalazioni. Beh, tu sindaco Melucci cosa fai? Non prendi il telefono tu o un tuo collaboratore e dici all'Arca Ionica intervieni prontamente? O aspettiamo, caro Melucci, o dovevamo aspettare qualche disgrazia, di modo che magari poi andavi ai funerali con la fascia tricolore e facevi anche un'altra passerella. Basta, basta. Lo ripeto per l'ennesima volta, dopo vent'anni di denunce giornalistiche mi sono rotto le scatole. Per questo mi candido sindaco, per invertire la rotta, dopo ventidue anni non ce la faccio più e insieme a me non ce la fa più la città di Taranto, almeno la parte buona di Taranto, i cittadini di buona volontà che pagano le tasse e si vedono trattati come pezze da piedi, scusate l'espressione. Ci siamo spostati solo di qualche metro e il quadro per altri aspetti presenta la stessa gravità e lo stesso indice di assoluto degrado, come al solito ovviamente rappezzi appunto di asfalto fatti in maniera pedestre. Guardate qui il brecciolino addirittura, qui guardate come si sfalda, qualcosa di pazzesco, anzi è brecciolino preso e buttato. Per non parlare qui dei marciapiedi, guardate i cordoli, che scempio, non so più cosa dire, sembra di essere con tutto il rispetto tornati ai famosi tempi delle cosiddette baracche Zaccheo, ecco giusto per capirci a questi livelli siamo, guardate qui, guardate che schifo, che schifo e l'assurdo anche lì abbiamo i pali della pubblica illuminazione con gli alberi, gli alberi che non vengono potati, non vengono tagliati e di fatto ostruiscono, coprono completamente i pali della luce, per cui praticamente diventa pressoché inutile accendere le luci se poi quelle luci vengono completamente coperte appunto dai pali. Uno stato di degrado assoluto ricordiamo che via Martin Lutero appartiene al comune di Taranto, si tratta di cittadini che pagano le tasse per avere che cosa? Servizi uguali allo schifo.